Nel Lazio si muore meno di tumore al seno, infarto e migliorano le condizioni per neonati che nascono con meno cesari, ma anche per gli anziani che si vedono operare molto più tempestivamente dalla IME frequente rottura del femore. A dirlo è prevale 2019 il programma regionale di valutazione degli esiti degli interventi sanitari nel Lazio, presentato tra i numerosi ospiti anche dal presidente della regione Nicola Zingaretti e dall'assessore alla sanità Alessio D'Amato, che in generale sottolinea come la regione abbia speso meno e meglio i suoi fondi destinati alla sanità e come abbia diminuito di molto il divario di accesso alle cure in base al grado di istruzione, annullando e in qualche caso portando in positivo il distacco con le altre regioni. In generale si contano 800 decessi in meno per infarto negli ultimi 5 anni, con la mortalità a 30 giorni da ricovero passata dal 10% nel 2012 al 7% del 2018, un dato che porta la regione Lazio al di sotto della media nazionale. Calano anche i giorni di degenza post-operatoria, mentre le fratture al femore trattate nei primi giorni dall'incidente passano dal 31 al 51%, portandosi in questo modo nella media nazionale. Considerando il dato complessivo negli ultimi 4 anni, calano anche i parti cesarei, con una percentuale ora attestatasi sul 27% all'anno, ancora però maggiore del resto del paese. In generale è un sistema di cure che va progressivamente migliorando anche per lo sforzo fatto a tutti i nostri professionisti in un momento anche di difficoltà per quanto riguarda gli organici soprattutto per le specializzazioni. Rimangono elementi di criticità per quanto riguarda ancora un'incidenza dei parti cesarei superiore alla media nazionale, dovremmo su questo intervenire. Un dato importante infine viene dalle breast unit, introdotte dal Ministero della Salute e recepite per prime proprio dal Lazio, dove il volume degli interventi al seno deve essere superiore ai 150 all'anno, che nel 2018 hanno fatto fronte al 73% degli interventi complessivi. Prende inoltre sempre più piede l'intervento ricostruttivo della mammella realizzato in simultanea con l'intervento ed esportazione del tumore, pratica passata dal 48% del 2015 al 56% del 2018.